Carissimi amici del canale YouTube, dentro la notizia, il governo fa e la commissione disfa. Ricorderete che fin dal 17 luglio il commissario agli aiuti umanitari, Christos Tiglianides, durante un dibattito all'Europarlamento sul caso di Carola Rachete, aveva esortato gli stati membri a non criminalizzare le ONG che operano nel Mediterraneo, usando queste parole. Nessuna forma di assistenza genuina ai migranti deve essere criminalizzata in virtù del diritto europeo. L'intento di Bruxelles di impedire il decreto sicurezza bis è evidente fin dall'inizio, quindi non ci deve stupire il fatto che, come riferisce l'agenzia ADN Kronos, la commissione ha già fatto sapere che valuterà se le nuove norme sulla sicurezza siano compatibili con quelle europee, in riferimento al decreto sicurezza bis approvato in questi giorni. E se non fossero compatibili? Altra procedura di infrazione? Ma chi governa in Italia? Il Parlamento italiano o la Commissione UE? Perché se fosse la Commissione UE, ovviamente farebbe i suoi interessi, non quelli del popolo italiano. E noi sappiamo chi si cela dietro la Commissione. Ad ogni modo, sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea, sono finite quelle norme pensate a contrastare l'immigrazione clandestina e a frenare le violazioni delle nostre acque territoriali da parte delle ONG. Il portavoce dell'esecutivo comunitario, Carlos Martín Ruiz de Gordeguela, ha dichiarato che la Commissione analizzerà il decreto legge così come adottato, per verificare la sua compatibilità con la legge europea. In ogni caso, il governo pare intenzionato ad andare avanti per la sua strada e Salvini ha già comunicato al Premier Giuseppe Conte di esportare in Europa il modello proposto dal decreto sicurezza bis. Cito testualmente, per ottenere quel salto di qualità nei rapporti di collaborazione sui rimpatri con i paesi terzi, invocato da tutti gli stati membri, ma ancora privo di concreti strumenti operativi. Salvini e alcuni elementi nel governo favorevoli al cambiamento provano a cambiare le regole in Italia per poi cambiarle anche in Europa. Il punto è, ci riusciranno? E soprattutto, ora come ora, il governo è libero di fare le leggi che ritiene siano nel migliore interesse dei cittadini oppure deve sottostare ai diktat dei tecnocrati europei. Cari amici, iscrivetevi numerosi al canale YouTube Dentro la Notizia, diffondete il video e sostenete la libera informazione per il bene di tutti, perché più circolano le idee e meno il pensiero unico del mainstream ha effetto su di noi. Solo le vostre donazioni ci permettono di esistere e di raccontare una realtà diversa. Un abbraccio dal vostro Roby!